Musica Cari amici, allora prendiamo in mano il nostro Livro dei Catechesi. Apostolo di Maria, stiamo facendo il capitolo sesto e questo capitolo l'abbiamo dedicato a quello che la Madonna sta facendo per preparare le sue schiere, il suo esercito, l'esercito invincibile dell'energia e della pace col quale la Madonna trionferà. Siamo arrivati dunque all'interno di questo capitolo, abbiamo fatto la metà, abbiamo fatto tre capitoletti, adesso facciamo il quarto. La Madonna chiama i suoi apostoli alla battaglia. Ovviamente i termini sono tutti da interpretare in chiave spirituale perché questa battaglia è la battaglia della luce contro le tenebre e del bene contro il male, della vita contro la morte e della speranza contro la disperazione. Allora vediamo questa chiamata dalla Madonna e a seguirla nella battaglia che poi è contro Satana e contro l'impero delle tenebre, quelli che hanno scelto di schierarsi da quella parte. Passiamo a pagina 120, capitolo letto 34. Maria chiama i suoi apostoli alla battaglia. Il piano della regia della pace è stato fin dall'inizio quello di svegliare le anime dal sonno stanco, come dice la Madonna, che le avvolge e chiamarle a raccolta per l'attuazione dei suoi piani. Il cuore della madre arde di amore per uno dei suoi figli. Li chiama la conversione perché possono godere di un tempo di pace e di prosperità qui sulla terra per poi pervenire alla gioia senza fine del cielo. Il punto di partenza di queste chiamate dalla Madonna è stata la parrocchia di Meggiugorie che la Gospa ha scelto perché si convertisse e così aiutasse a convertirsi tutti quelli che si sarebbero recati. L'ha detto l'8 marzo del 1984. La chiamata si è fatta sempre più estesa e pressante negli anni successivi, in particolare con l'inizio del nuovo millennio che vede il drago sciolto dalle catene. La regia della pace sta preparando il suo esercito alla battaglia. Il numero di chi risponde non è indifferente. E in alcune occasioni si rallegra che tanti accolgano i suoi messaggi. Non vi è dubbio però che le stia a sé più a cuore la qualità della risposta che lei vuole sempre più radicale e più convinta. Lei stessa si presenta come l'inviata dall'Onipotente per realizzare i suoi progetti di misericordia per un mondo in grave pericolo. La Madonna ci ricorda che lei adempie al suo compito con dedizione totale animata dal suo immenso amore di madre. Cioè la Madonna veramente fa il possibile e l'impossibile e ci dà l'esempio. Ci ripete più volte che non è stanca e che non si arrende. Con pazienza cerca di formarci e di prepararci ad affrontare i tempi della prova. Ogni volta riprende da capo come fa una madre con quei bambini che non vogliono imparare a camminare. Perché tanta tenacia nel gettare a piene mani il seme di cui vede germogliare solo una piccola parte. La ragione di fondo risiede nell'importanza che ognuno di noi ha nell'opera divina della salvezza. Lei lo dice tutti voi siete importanti non solo per la loro anima personale ma per il mondo intero. Vi dà infatti questo messaggio bellissimo del 2 gennaio 2013. Cari figli, con molto amore e pazienza cerco di rendere i vostri cuori simili al mio cuore. Cerco di insegnarvi col mio esempio l'umiltà, la sapienza e l'amore perché ho bisogno di voi. non posso senza di voi figli miei. Secondo la volontà di Dio vi scelgo. Secondo la sua forza vi rinvigorisco. Perciò figli miei non abbiate paura ad aprirmi i vostri cuori. Messaggio bellissimo questo è il 2 gennaio 2013. Il calcagno con cui la madre di Dio schiaccia la testa del serpente infernale è formato dalla moltitudine dei piccoli e degli umili che diranno sì, sì alla sua voce. C'è il calcagno con cui schiaccia la testa del serpente saranno i suoi piccoli figli che avranno detto sì, sì. È impressionante come la madre si chiede umilmente per chiedere aiuto ai suoi figli. Noi siamo abituati nella nostra miseria a rivolgerci a lei che tutto può con la sua intercessione. Pensiamo che il nostro rapporto col cielo si risolva nel tendere la mano ogni volta che siamo nel bisogno. ma anche Dio ha bisogno degli uomini non potrebbe attuare i suoi piani di misericordia senza di loro. La Madonna non solo si rivolge all'Onnipotente per chiedere grazie in nostro favore ma non esita a bussare alla porta del nostro cuore perché senza di noi non può realizzare ciò che desidera. Come Sadena diffonde la menzogna e porta le anima alla rovina con l'aiuto dei suoi servi così la Vergine potente contro il male può condurre le anima alla salvezza con il nostro aiuto. Vediamo questo bellissimo messaggio del 25 maggio 1995. Cari figli vi invito figlioli aiutatemi con le vostre preghiere ad avvicinare più cuori è possibile al mio cuore immacolato. Satana è forte e con tutte le sue forze vuole attirare a sé e al peccato quanto più persone possibili. Per questo stai in agguato per carpirne ogni momento di più. tremendo eh? Vi prego figlioli aiutatemi affinché io vi possa aiutare. Vi prego figlioli aiutatemi affinché vi possa aiutare. Io sono vostra madre e vi amo e perciò desidero venire in vostro aiuto. Grazie per il risposto alla mia chiamata. 25 maggio 1995 bello questo è aiutatemi vi prego figlioli aiutatemi affinché vi possa aiutare. La Gospa ha specificato che nessuno si può chiamare fuori da questa battaglia e che ognuno svolge un ruolo importante come ha detto nel messaggio del 25 giugno del 2004. Cari figli anche oggi c'è gioia nel mio cuore desido ringraziarvi perché rendete realizzabile il mio progetto. ognuno di voi è importante ognuno di voi è importante come se l'avessi detto a ognuno di noi tu sei importante perciò figlioli pregate e giuvite con me per ogni cuore che si è convertito ed è diventato strumento di pace nel mondo. solo Dio sa quante persone che il mondo ignora e disprezza sono diventate degli insostituibili e fedeli soldati di un'armata silenziosa che argina il male nel mondo e costruisce un futuro di pace. La battaglia che la Vergine potente contro il male sta combattendo è diversa dalle guerre che gli uomini si fanno fra di loro. Nei conflitti umani l'obiettivo è l'annientamento del nemico. i due eserciti si fronteggiano per distruggersi a vicenda. Le battaglie di Dio al contrario si pongono come fine ultimo alla salvezza dei nemici mediante le armi dell'amore fino a dopo della vita. Si tratta in ultima istanza di strappare le anime dalle fauci del drago per portarle al riparo sotto il manto della madre. la gospa è instancabile nel cercare chi accetti di far parte di questo esercito la quale lei è la condottiera nel nome dell'Altissimo. Il suo desiderio è di trovare anime che abbiano i suoi medesimi sentimenti e che condividano i suoi obiettivi tutto quello specificato magnificamente in questo messaggio del 2 settembre 2012 cari figli mentre i miei occhi vi guardano la mia anima cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola anime che abbiano compreso l'importanza della preghiera per quei miei figli che non hanno conosciuto l'amore del Padre Celeste vi chiamo perché ho bisogno di voi accettate la missione e non temete vi renderò forti vi riempirò delle mie grazie con il mio amore vi proteggerò dallo spirito del male sarò con voi con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili vi ringrazio per i vostri cuori aperti questo messaggio che lo tengo sulla mia scrivania leggo e rileggo perché la Madonna ha bisogno di persone che l'aiutino a salvare le anime molti esitano a rispondere fino in fondo alla chiamata e si accontentano di guardare da lontano o di seguire delle retrovie la Madonna sa quanto siamo pavidi e solleciti dei nostri interessi conosce i nostri calcoli e le nostre fragilità perciò ci incoraggia promettendo il dono della sua fortezza dalla sua protezione e dalla sua consolazione allora ci domandiamo cari amici la sete di anime della Madonna e anche la nostra sete si arriva a questo dopo un cammino spirituale che ci fa comprendere la nostra responsabilità nei confronti degli altri in giocolo non vi è soltanto la salvezza della propria anima ma anche di quella dei fratelli non si va da soli verso il cielo ma si cammina insieme la cospa mette in guarda dal pericolo di una concezione egoistica della propria salvezza e dice come singoli figli miei non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo ma per mezzo della volontà di Dio tutti insieme con mio figlio possiamo cambiare tutto e guarire il mondo coraggio cari amici non siamo soli tutti insieme con lei con suo figlio per mezzo della volontà di Dio possiamo cambiare tutto il mondo e guarirlo e così avverrà non si stanca di ripetere che ha bisogno di noi per aiutare a salvarsi chi è sulla via dalla rovina è bellissimo questo messaggio del 2 novembre 2011 ma figli miei non dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi e che io non vi chiamo qui solo per voi coloro che seguono mio figlio pensano al fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono l'egoismo perciò io desidero che voi siate la luce di mio figlio che voi illuminate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il padre a tutti coloro che vagano nella tenebra del peccato della disperazione del dolore e della solitudine e che mostrate loro con la vostra vita l'amore di Dio insomma la Madonna è qui non soltanto perché noi salviamo la nostra anima ma che vuole che noi salvando la nostra anima poi ci dedichiamo a salvare le anime degli altri la Madonna mette l'amore di Dio e dei fratelli sul medesimo piano come due componenti rinunciabili di un unico comandamento cioè l'amore di Dio e del prossimo per cui se Dio deve essere messo a primo posto anche i fratelli gli devono essere messi accanto bello questo messaggio è marzo 2012 vi prego con cuore materno ma vi ammonisco anche vi prego e vi ammonisco figli miei affinché la sollecitudine per coloro che non hanno conosciuto mio figlio sia per voi al primo posto sulla conversione dei non credenti la sollecitudine per coloro che non hanno conosciuto mio figlio sia per voi al primo posto non fate sì che essi guardando voi alla vostra vita non desiderino conoscere mio figlio cari amici i progetti del cielo si realizzano o falliscono a seconda della nostra risposta sono i progetti del cielo una chiamata alla corresponsabilità come ha detto nel messaggio il 2 settembre 2005 cari figli vi invito a pregare per i miei piani e desidero cari figli realizzare insieme con voi i miei progetti ho bisogno delle vostre preghiere e poi nel 2 novembre 2012 figli miei vi è data la grazia di essere testimoni dell'amore di Dio non premete alla leggera la responsabilità che voi è data non affliggete il mio cuore materno come madre desidero fidarmi dei miei figli e dei miei apostoli cari amici la Madonna ce l'ha messa tutta per formare i suoi apostoli noi ci domandiamo cari amici la Madonna si può fidare di noi quanto la Madonna si può fidare di noi qual è la nostra risposta in termini di preghiera di testimonianza di generosità pensate il cielo che ci viene a chiamare per lavorare nella sua vigna è una chiamata che ci riempie di gioia di responsabilità e di santo orgoglio ma rispondiamo come si deve cari amici alle chiamate del cielo bene abbiamo fatto questo capitoletto bellissimo il numero 34 Maria chiama i suoi apostoli alla battaglia il prossimo capitoletto 35 Maria chiede ai suoi apostoli il coraggio dei profeti lo faremo la prossima volta con questo abbiamo terminato questo bellissimo libro cari amici che sinteticamente vi ho la possibilità di fare un corso di preparazione a diventare apostoli di Maria lo trovate qui a Radio Maria scrivendo al numero di OSAP 031 610 610 scrivendo il titolo del libro apostoli di Maria poi nome cognome indirizzo numero di telefono per il corriere che vi porta il libro vi aggiungiamo noi come omaggio anche un braccialetto con 10 colori con 10 graini del rosario potete scrivere all'indirizzo email di Radio Maria info.it a chiocciola radiodomaria.org potete potete prenotare il libro con con il sito cliccando catalogo il sito è radiodomaria.it cliccate catalogo potete telefonare all'ufficio informazioni 031 610 600 cari amici di store online lo possono inviare a casa e lo potete trovare nelle librerie specialmente quelle cattoliche abbiamo terminato vi ringrazio vi esorto cari amici andare avanti con gioia perché la Madonna è qui ci guida ci incoraggia ci protegge e ci difende alle state cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria Grazie a tutti